Allora adesso sono a chiamare Puglisi, dispositivi innovativi basati su osse di binari per applicazione valtrata. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Maria Puglisi e ho svolto la mia attività di ricerca presso questa università nella scuola di dottorato in ICT sotto la supervisione del professore Paolo Pavan. Quest'oggi vi parlerò del topic della mia attività di ricerca, che riguarda dispositivi innovativi basati su osse di binari per applicazioni avanzate. In particolare mi sono occupato di oggetti noti come R-RAM, ossia memorie resistive, in particolare di memorie resistive basate su biossido di afnio. Per chi di voi non avesse conoscenza di questi dispositivi, si configurano sostanzialmente come delle memorie non volatili emergenti alternative. Una memoria si definisce non volatile quando è capace di ritenere il dato scritto su di essa anche in assenza di fonti esterne di alimentazione. In particolare queste sono anche delle ottime memorie non volatili, in quanto hanno una struttura molto molto semplice, il che permette di seguire il trend attuale di distribuzione in 3D di questi oggetti, e quindi di riuscire ad avere dei dispositivi di memoria altamente compatti e densi, quindi anche molto convenienti per l'industria. Inoltre sono caratterizzate da un bassissimo consumo, il che le rende ideali per essere integrate in strutture di tipo mobile, come per esempio smartphone, tablet e via discorrendo. Sono estremamente veloci, affidabili, compatibili con i processi tecnologici di fabbricazione attuali, quindi per un'industria microelettronica. L'introduzione di questi dispositivi non comporta delle spese iniziali aggiuntive, che di solito sono molto elevate per aggiornare la tecnologia, tuttavia vi sono ancora dei punti, dei problemi aperti, in particolare dei problemi connessi all'affidabilità. Per l'industria questo è un punto estremamente importante, in quanto di solito si dice no reliability, no business, quindi se non c'è affidabilità è difficile incentrare un business su questi dispositivi, che in realtà rimangono molto promettenti. Questa è una fotografia dello stato attuale e della proiezione futura dello spazio occupato dalle memorie. Possiamo vedere da sinistra verso destra una classificazione di memorie, che vanno da memorie estremamente compatte, velocissime, performanti, ma volatili, quindi che perdono l'informazione una volta che il sistema viene disalimentato, verso memorie enormi, grandi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della capacità, ma poco performanti, lente, anche se non volatili, quindi ideali per applicazioni di mass storage. Attualmente c'è un certo divario tra le due categorie di memorie principali sul mercato delle memorie non volatili e volatili. Le DRAM dominano il mercato delle memorie volatili, le flash in hand, che costituiscono il core delle nostre pennet USB, per fare un esempio, costituiscono attualmente il punto di riferimento del mercato per le memorie non volatili. In un domani la tecnologia che stiamo studiando potrebbe andare ad attaccare tecnicamente entrambi i settori, ma potrebbe anche calarsi in mezzo a queste due tecnologie per fornire un ponte in questo gap che è attualmente presente e potrebbero essere integrate in smartphone, soluzioni come tablet, ma anche soluzioni enterprise, nettamente più performanti, viste le ottime caratteristiche che abbiamo visto in precedenza. Ma questi dispositivi non sono soltanto stati proposti come memorie. Le stesse aziende stanno producendo altre proposte applicative estremamente interessanti, ad esempio dispositivi logic in memory che sono capaci non solo di immagazzinare localmente il dato, ma anche di processarlo localmente, garantendo delle prestazioni computazionali senza precedenti. Sempre su questa falsariga si configura il discorso del neuromorphic computing, ossia la capacità di questi dispositivi di comportarsi, una volta integrati in un circuito integrato, dall'analogo delle sinapsi che abbiamo nel nostro cervello e quindi garantire la realizzazione di circuiti ispirati al funzionamento del cervello umano con prestazioni veramente inimmaginabili. Attualmente implementare una sinapsi costa l'integrazione di 300 o 400 transistor, uno solo di questi dispositivi potrebbe fare al caso nostro. Molto di recente Global Founders, leader nel settore microelettronico, ha proposto l'utilizzo di questi dispositivi per formare dei circuiti fisicamente non clonabili con ovvie applicazioni nel campo della sicurezza, soprattutto a livello industriale. Quindi la profondita conoscenza di questi dispositivi è necessaria per garantire un ritorno abilitante per l'industria e per avere un forte impatto sul mercato. L'obiettivo che mi ero posto all'inizio del dottorato era di realizzare un modello compatto di questi dispositivi, quindi facilmente usabile dall'industria stessa, anche per simulazioni a livello di sistema, che fosse in grado di includere e prevedere i fenomeni legati all'affidabilità di questi componenti. E questo chiaramente deve passare attraverso la comprensione del funzionamento di questi oggetti, della variabilità in scrittura e del disturbo e lettura, che sono i principali fenomeni che minacciano l'affidabilità di questi dispositivi, e introdurre questi effetti in una rappresentazione semplice, tuttavia funzionante ed efficace. Siamo partiti quindi dai meccanismi fisici che governano le operazioni di scrittura e lettura su questa memoria. Sono meccanismi fisici molto complessi che sono stati parzialmente chiariti qualche anno fa con importanti contribuzioni in letteratura. Tuttavia ancora abbiamo dei vuoti, manca allo stato dell'arte un modello compatto che possa essere utilizzato per simulazioni a livello di sistema, quindi di circuiti, che implementano questi dispositivi, che includa gli effetti di variabilità. E ancora non si è capito qual è il meccanismo fisico che dà origine al disturbo in lettura, che può causare il fallimento dell'operazione stessa di lettura. Ed è qui che andremo ad agire. In particolare ho sviluppato un modello compatto basato sulla fisica del dispositivo. Brevemente, questi dispositivi possono essere commutati tra due stati a bassa e ad alta resistenza fornendo dall'esterno degli impulsi elettrici ed è possibile quindi creare un filamento conduttivo all'interno della struttura, caso B, che poi è possibile tramite un apposito impulso elettrico parzialmente spezzare, figura C oppure D oppure E, per indurre uno stato a più alta resistenza. La modellizzazione che ci siamo prefissi di raggiungere deve essere compatta e si basa quindi sulla rappresentazione della resistenza del dispositivo. Una volta impostato il dispositivo in uno di questi stati, lo stato è stabile, perciò la memoria non volatile, non decade, l'informazione rimane lì dove è stata scritta. Questo tipo di modellizzazione è molto molto semplice e tiene conto in maniera generalizzata dei contributi resistivi, sia del filamento che della barriera, e quindi è capace di descrivere in maniera rapida ma efficace il comportamento di questo dispositivo ed è stato presentato a una conferenza di punta del settore e ha ricevuto il Best Student Paper Award. Inoltre garantisce all'industria un tool utile, in quanto il modello proposto è capace di riprodurre correttamente il comportamento di dispositivi prodotti da aziende diverse. Qui abbiamo il confronto tra le simulazioni e i dati sperimentali, di dispositivi fornitici da Sematec e dati disponibili in letteratura che corrispondono a dispositivi fabbricati da una diversa azienda. Questo tool ci ha permesso anche di analizzare fisicamente i fenomeni responsabili della variabilità in quanto permette di mappare il comportamento elettrico del dispositivo nelle variabili fisiche, ossia le dimensioni fisiche del filamento e della barriera, quindi parametri fisici che descrivono su una nanoscala il comportamento di questi dispositivi. Quindi avere la possibilità di svolgere un'analisi fisica della variabilità è fondamentale non solo per passare alla conoscenza delle persone che si occupano di tecnologie nell'azienda cercando quindi di controllarla, ma proprio per fare delle predizioni, per introdurre all'interno del modello la capacità di predire la variabilità e grazie a questa tipologia di analisi abilitata dal nostro modello è stato possibile includere gli effetti della variabilità nel modello stesso e come possiamo vedere dal confronto tra i dati simulati e i dati sperimentali il modello può essere usato per predire la variabilità di entrambi gli stati del dispositivo. È stato proprio sfruttato di recente da Global Foundries, questo modello da noi proposto, per simulare l'attività dei circuiti fisicamente non clonabili che si basano sulla variabilità di questi dispositivi e la sfruttano come risorsa invece che considerarla come problema. Quindi questo garantisce un ritorno per l'industria che cattura l'attenzione dell'industria stessa. In più ci siamo occupati anche di cercare di capire cosa dà origine al rumore in lettura perché è un meccanismo che minaccia l'affidabilità dei dispositivi e ci siamo concentrati sul ruolo di alcuni difetti strutturali che sono presenti all'interno del dispositivo in conseguenza di non idealità del processo di fabbricazione di questi dispositivi stessi attraverso delle supposizioni sull'attività fisica dei difetti stessi in particolare complessi processi di attivazione e disattivazione siamo riusciti a sviluppare infine anche un modello fisico di questo fenomeno. Per fare ciò ci siamo avvalsi di una tecnica di analisi statistica mutuata dalla comunità di machine learning della quale avete sentito parlare anche in precedenza attraverso una tecnica molto avanzata che si chiama Factorial Hidden Markov Model siamo riusciti ad analizzare le proprietà statistiche di questo disturbo in diverse condizioni operative per il dispositivo e i risultati di questa analisi sono molto interessanti in quanto permettono di tracciare in diverse condizioni operative le caratteristiche statistiche di questi dispositivi permettono di avere una conoscenza approfondita sulla natura dei fenomeni che stiamo osservando che sono in realtà estremamente complessi ma può essere usata anche per rappresentare questi fenomeni in maniera compatta ed elegante e siamo riusciti a convalidare tutta questa conoscenza su più tecnologie come potete vedere dalla figura in basso molti dispositivi con diversi spessori di materiali di diversi produttori in diverse condizioni operative sono perfettamente rappresentabili attraverso la nostra modellazione e quindi grazie a questa conoscenza approfondita siamo riusciti a proporre anche una spiegazione fisica autoconsistente del rumore che può essere quindi passata all'industria per cercare di mitigare il rumore stesso oppure trarre vantaggio addirittura come hanno già fatto dalla variabilità o da queste problematiche connesse all'affidabilità quindi in conclusione siamo riusciti a sviluppare un modello molto compatto utilizzato già ora dall'industria quindi che cattura l'attenzione dell'industria abbiamo fornito anche uno strumento per l'analisi statistica del disturbo in lettura che non si manifesta solo in questi dispositivi grazie al riscalamento estremo proprio dell'industria microelettronica questo fenomeno si trova in mille dispositivi e quindi questo tool è molto abilitante anche per il progresso delle altre tecnologie e questo garantisce sicuramente un ritorno abilitante per l'industria per inserire quanto prima possibile questi dispositivi in produzione e attaccare un mercato che è molto appetitoso e in espansione costante queste sono alcune aziende con le quali abbiamo avuto modo di collaborare a HP, Global Foundries, Sematec e ci muoviamo anche dalla collaborazione con altri centri universitari e l'Università di Tecnologie e Design di Singapore quindi questi sono alcuni output scientifici che hanno caratterizzato la nostra attività e vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 Grazie.